Consulente di gestione e incaricato fornanzato, quelle due nuove figure che sono state create. Si dicono di smettere di sognare, il futuro appartiene a coloro che credono alla bellezza dei propri suoi. Non aspettiamo che tutto ci sia affetto, non sarà mai perfetto. Abbiamo un'idea una realizzata, prima o poi un'altra realizzata al corpo nostro. Non l'abbiamo visto che è un vero successo, però stavamo nella direzione forza di quell'intensità mondiale. Quali che abbiamo creato una polisera? La strada, tutti gli optional, ti metti al volante, di fianco al copilota. Qual è la variabile? Il mio piede. Vedo in quanto tempo voglio ottenere i risultati, perché se io ho tutte, se non riesce a lavorare, non tengo nulla. Non dobbiamo fare il cambiamento, ma dobbiamo fare il rumore che rimane la processiamo, dobbiamo uscire della nostra comportazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.